Ciao a tutti ragazzi e bentrovati sul mio canale YouTube da Simone Pasqua. C'è un'iniziativa molto importante che è quella di Io compro acqua spartano. Praticamente per fare i regali di Natale cerchiamo il più possibile di comprare acqua spartano, di comprare nei nostri negozi, di comprare nelle nostre attività commerciali senza andare nei grandi magazzini e nelle grandi città. Vi lascio in descrizione la pagina dell'antica Fiera Lincea, ma già ve l'ho lasciata, perché sulla pagina dell'antica Fiera Lincea troverete le promozioni dei negozi di acqua sparta, centri estetici e quant'altro. Quindi chi ovviamente è aderito a questa iniziativa lo trovate sulla pagina Facebook dell'antica Fiera Lincea che in questi giorni vi sta fornendo delle indicazioni per i vostri regali di Natale nei negozi di acqua sparta perché è molto importante ovviamente comprare ad acqua sparta perché mette in moto l'economia locale che purtroppo causa Covid sta un po' morendo e sta andando un po' a pezzi, diciamo così. Quindi è giusto che ci siano i consumi che poi rinseriscono monete e che poi ovviamente fanno girare l'economia all'interno di acqua sparta appunto. Quindi io vi lascio la pagina Facebook come sempre e da lì poi voi contattate il negozio che più vi preferisce andate direttamente al negozio, tanto la maggior parte siamo tutti di acqua sparta quindi è molto semplice la procedura da fare.